Ciao a tutti, miei cari amici, che mese che è stato marzo, veramente impegnativo e immagino che aprile non sarà molto diverso, però oggi siamo qui per rilassarci un po' e per cercare di leggere, di trovare cose interessanti nel calendario di aprile del 2020 in dialetto. In dialetto aprile si dice avril e per me è un mese molto speciale perché proprio l'ultimo giorno io compio gli anni, giuvide 30 ed avril, è il mio compleanno, mi sarebbe piaciuto festeggiarlo in maniera un po' diversa assieme a voi perché mi sarebbe piaciuto per esempio fare quello che ho visto fare su molti canali di mie colleghe e colleghi, ovvero quella che è una lista Amazon perché la mia situazione economica è che la maggior parte degli ingressi, degli introidi devono andare in mutuo scuole dei bimbi e tutto quanto quello che riguarda i bimbi e io rimango sempre in secondo piano, però poi è subentrata questa emergenza del Covid-19 e mi sembrava che l'ultima cosa necessaria fosse fare una lista Amazon e fare, sperando di ricevere regali, visto che immagino di non essere l'unica a trovarmi in una situazione un po' difficile e quindi chissà più avanti, più avanti quindi adesso non parliamo di cose tristi ma dedichiamoci al calendario che direi che sia la cosa migliore da fare quindi iniziamo con i proverbi del mese aprile ogni goccia ha un parile natale col sole, pasqua col tizzone chissà se magari quest'anno pasquetta sarà bella, giusto perché dovremo passarla in casa aprile fa i fiori e maggio agli onori pasqua piovosa, annata granosa aprile, apriletto, ogni giorno un rametto san vincenzo chiaro, assai grano scuro pane nessuno se per San Marco goccia lo spino abbondanza di vino e poi qui abbiamo come sempre gli antichi versi che però evito sempre di leggere un passo oltre ma andiamo a vedere nel dettaglio i giorni di aprile aprile inizia con il primo che è ovviamente il giorno del pesce di aprile che è un mercurde ed è anche il giorno di primo quarto con la luna che entra nel primo quarto alle ore 12 e 21 poi abbiamo domenica domenica 5 al 5 ed avril che è la domenica delle palme e poi arriviamo a mercurde 8 ed avril con la luna piena alle ore 4 e 35 e poi abbiamo Pasqua domenica 12 e ovviamente segue Pasquetta o anche detto, forse meglio detto lunedì dell'angelo che sarà il 13 poi abbiamo Mercurde quentes che ci sarà la luna in ultimo quarto a mezzanotte e 56 ovvero 56 minuti dopo essere entrati nel 15 aprile e poi andiamo giù fino al 19 di domenica 19 che c'è domenica in Albis io questa non ho mai capito se sia una qualche tipo di festeggiamento che cosa e martedì 21 si entra nel segno del toro che ovviamente è il mio segno preferito perché sono io e mi pare che martedì 21 sia anche il compleanno di Ecate Splendente ovvero Cota I ASMR poi abbiamo il 23 Giovedè che la luna entra abbiamo la luna nuova quindi la luna nera alle ore 4 e 26 e poi abbiamo il 25 di aprile una festa molto importante e poi si arriva ovviamente alla festa più importante di tutte che era il mio compleanno il 30 di aprile Giovedè 30 ed avril che è anche il primo quarto di luna alle ore 22 e 38 quest'anno tra l'altro compio gli anni di Giovedè che è esattamente il giorno della settimana in cui sono nata nel lontano 1981 e una cosa molto bella del compiere gli anni il 30 di aprile è che il giorno dopo è il primo maggio e quindi io ho sempre potuto festeggiare quando ero giovane quando potevo uscire alla sera senza dover abbandonare dei minori a casa ho sempre potuto festeggiare e il giorno dopo riposare a piacere ma andiamo a vedere ok basta parlare di compleanno dai la cucina tipica polenta con sugo di maiale a me piace molto la polenta ma ovviamente non la mangio col sugo di maiale la mangio con il mascarpone e il parmigiano cattugiato sopra andiamo a vedere un po' di dialetto un fredda can un fredda can un fredda can che vuol dire un freddo da cani un freddo cani un freddo cane svelto come una lumaca svelto come una lumaca svelto come una lumaca perché tutti quanti questi modi dialettali tendono ad essere abbastanza ironici una fam taleaun una fam taleaun una fame taleune poi abbiamo altri modi di dire dialettali qui dalla padella alla presa ovvero dalla padella alla brace e questo detto deriva da una favola in cui si racconta che un pesce messo a freggere nell'olio bollente credo ai suoi simili di fuggire e tutti saltarono così dalla padella ma finirono dentro la brace quindi non è che migliorarono la propria situazione mi cade la faccia espressione di stupore sconforto pronunciata quando si hanno notizie quasi incredibili che proprio ti fanno cadere la faccia le meie seruselle et bosque che et gabia le meie seruselle et bosque che et gabia ovvero è meglio essere uccelli di bosco che uccelli di gabia e il detto viene utilizzato da ragazzi scapoli che prendono in giro gli amici sposati come se poi il matrimonio fosse un obbligo proverbi chi non sa fingere non sa regnare per l'uomo politico la finzione è all'ordine del giorno quindi è necessario saper fingere chi ha il stomaco pieno e non crede a chi la vuote ah questa è un po' difficile aspettate ce la posso fare chi ha il stomaco pieno e non crede a chi la vuote ce l'ho fatta ovvero chi ha lo stomaco pieno non crede a chi la vuote il tutto per dire che il ricco non può capire il povero alla lust la candleina anche al ramel è il per fareina alla luce di una candela anche la grusca sembra farina ovvero non bisogna essere superficiali e non bisogna lasciarsi ingannare dalle apparenze aver più la pratica che la grammatica ovvero vale più la pratica della grammatica l'esperienza di un lavoro vale più ed è più indispensabile dello studio teorico ma se uniamo le due cose male non va una filastrocca ora a piove a piove a piove la gatta la fa l'uovo la serva la fa i turclei la gatta e porta via piove piove la gatta fa le uova la serva fa i tortelli la gatta le porta via e ora giriamo pagina e vediamo cosa ci riserva il retro eccoci qui sempre ad aprile del duemila e venti andiamo a vedere la luna e l'orto in luna calante nell'orto effettuate la semina il trapianto interna di barbabietole radicchio spinaci invidia no quando ho sbagliato è l'indivia un piccolissimo errore non piantiamo invidia piantiamo l'indivia che è più buona da mangiare cipolla sedano porri e scarola di sudate il terreno per le coltivazioni di primavera rincalzare le patate predisponete gli appositi sostegni ai tutori per melanzane piselli pomodori e fagioli in cantina si procede al completamento del travaso primaverile e in luna crescente nell'orto seminate all'aperto lattuga aneto cetriolo anguria fagiolini basilico garotte e le erbe aromatiche come salvia con timo origano coriandolo ed erpa cipollina completare l'innesto su meli e vidi e interrare le nuove piantine di olivo e di vite il santo del mese non ve lo leggo praticamente mai perché non è una parte che mi interessi molto ma andiamo a vedere il sole il giorno 1 il sole si leva alle 6 e 52 e tramonta alle 19 e 36 poi vediamo metà mese il giorno 13 il sole si leva alle 6 e 32 quindi in 13 giorni guadagniamo 20 minuti e tramonta alle ore 19 e 49 quindi guadagniamo altri 13 minuti 33 minuti in totale e il giorno più importante del mese il 30 il sole si leva alle 6 e 07 quindi abbiamo 45 minuti in più al mattino e tramonta alle ore 20 e 08 quindi abbiamo 32 minuti in più 32 più 45 fa 77 minuti in più non male aprile aprile ci dona già delle giornate più lunghe sperando che prima o poi potremmo potremmo passarle all'aperto la poesia del mese ce la regala pirandello e parla della pioggia d'aprile attoniti attoniti dai nidi nuovi sui vecchi tetti guardano gli uccelletti mettendo acuti gridi cadere l'invocata pioggia di mezzo aprile tu dietro la vetrata dalla finestra bassa come loro guardi e ridi è nuvola che passa poi la ricetta riguarda i maltagliati con i fagioli qui nella ricetta si usa il lardo ma questa è una ricetta povera che è possibile fare anche in versione vegana se non eventualmente vegetariana se ci volete mettere del parmigiano ed è veramente molto buona maltagliati con i fagioli è un appiotto veramente semplice che mi piace moltissimo il linguaggio dei fiori il carofano se rosso indica amore passionale bianco è fedeltà giallo è stegno prevalentemente coltivato sulle coste tirreniche la superstizione non lo vuole nel camerino di un'attrice numerosi sono i significati attribuiti a questo fiore nel corso dei secoli la mitologia lega il carofano alla dea della caccia Diana che è Diana il nome di uno dei gatti dei miei genitori la tradizione cristiana riporta che dalle lacrime di Maria addolorata ai piedi della croce del Cristo ma guerri carofani numerosi sono anche i poteri attribuiti agli infusi ricavati con l'essenza del fiore tocca sana contro i malanni e la febbre sollievo per le sofferenze d'amore il significato dei nomi Marco un nome molto comune in Italia deriva dal latino marcus che è tratto da mardicus che significa di marte quindi sacro a marte l'onomastico è il 25 aprile in onore di San Marco evangelista padrono della città di Venezia e protettore degli allevatori interpreti notai ottici segretari e vedrai mentre Ugo deriva dal germanico ed è composto di Ugo pensiero o senno che si chiama Ugo quindi chi si chiama Ugo è una persona con spirito perspicace l'onomastico si festeggia tradizionalmente il primo aprile in onore di Sant'Ugo morto nel 1132 invocato contro il pericolo di congestione andiamo a leggere questo trafiletto sulla natura e salute e parliamo del sandalo non quello che si mette ai piedi in estate il legno il legno di sandalo già usato nell'antichità per realizzare strumenti musicali e profumati a redi sacri e profani permette di ottenere un olio dalle notevoli proprietà antisettiche l'olio di sandalo ha un effetto calmante e sedativo in generale ed è un efficace antisettico con proprietà idratanti ed equilibrandi per le pelli secche ha un effetto antidepressivo ed è uforizzante per il sistema nervoso e migliora la qualità del sonno calma il vomito il singhiozzo e le coliche e allevia le nausee mattutine combatte le infezioni e allevia l'irritazione determinata dalla tosse è coadiuvante nella cura delle cestiti contribuisce ad asciugare la forfora e il sudore eccessivo e riduce le infiammazioni provocate da eretemi solari o da pannolini trovo che le sue proprietà equilibranti e idratanti potrebbero aiutarmi molto perché non so voi ma in questo periodo con la quantità di volte che ci si deve lavare le mani le mani hanno molta sete hanno proprio bisogno di essere idratate e nutrite andiamo a leggere il segno di aprile che è la riete la riete che va dal 21 marzo al 20 aprile tutti gli elementi indicano dinamismo energia attività dunque coraggio forza creativa fantasia volontà entusiasmo vivacità ma anche inquietudine impulsività ansia temerarietà impazienza impazienza desiderio di dominio suscettibilità aggressività è intelligente arguto raffinato elegante affascinante fiero coraggioso energico spesso di bell'aspetto se il pianeta è in posizione favorevole beh beh questa frase sinceramente la evitiamo perché è sempre la stessa identica per tutti quanti segni il colore di questo segno è il rosso e quindi è importante che gli arrieti si nutrano di cibi e bevande che contengono questo colore almeno per esempio già mi vengono in mente i pomodori l'anguria e poi cos'altro vi immaginate di rosso insomma le fragole male non va è un buon buon colore per mangiare come verdure i peperoni rossi i ravanelli i pomodori le barbabietole il rabarbaro rosso le bacche tutte le varietà di spezie piccanti come il peperoncino eh va molto bene come i frutti le fragole le ciliegie mamma mia l'anguria i lamponi i ribes come bevande aranciate succhi d'uva e di mertillo e infine arriviamo all'ultima piccola rubrica dei sogni i sogni e la cabala per tutti quelli che credono in queste cose però lo trovo molto divertente da leggere candela vederla in sogno indica prossima fortuna e guadagno giocate il numero tre cappello sognare di avere un cappello nuovo indica gioia perderlo o averlo rotto indica infelicità numero uno cappotto sognarlo è cattivo segno perché il sognatore dovrà subire dei dispiaceri numero ventinove carabiniere carabiniere sognarlo indica protezione onestà e sicurezza numero cinquantadue carbone sognare carboni accesi è buon segno se i carboni sono ridotti a cenere essi indicano morte di parenti o amici ok sognarli sul punto di spegnersi indica diminuzione di affari sognare di mangiare carbone vuol dire danno certo numero quindici ora in generale mi sembra che tutte quante queste cose sia gli oggetti che anche le situazioni si riferiscono a cose che forse ormai sono un po' lontane dalla nostra quotidianità per esempio il carbone o la candela cioè non è più una presenza costante nella vita di tutti i giorni e di solito chi accende le candele in casa lo fa perché per esempio sono candele profumate per stare bene e quindi spero che tutti quanti voi possiate sognare candele per avere prossima fortuna e guadagno che male non fa mai e quindi niente con questo siamo arrivati alla fine di un altro mese spero che spero che anche questa volta io sia riuscita ad aiutarvi a rilassarvi e a pensare a qualcosa di diverso auguro a tutti voi un aprile felice e auguro a tutti voi di poter riabbracciare presto i vostri cari e vedere presto fare magari una bella passeggiata e vedere un bel ambiente da fuori casa grazie per essere stati qui con me ci vediamo spero molto presto con un nuovo video grazie grazie e a presto a presto